E bello a tutti ragazzi, oggi siamo in un nuovo video di Ark, oggi siamo con Pasquale E ciao a tutti ragazzi In una nuova serie Mamma mia però i giochi di questo bel gioco Ma qua Pasqua tu non puoi capire quanto si sta mettendo Oh mio D che brutto, naturalmente femmina Nonno Baldo Io Pasquala Ah dai Pasquala, buongiorno Pasquala Quindi io sono tuo nonno Ah ma sei già entrato? Sì Allora, quindi quanto ho visto su The Long Gamer Qui si deve craftare, si possono addomesticare i dinosauri E quindi questo gioco mi ha già conquistato E io credo E Reta quanto so, sulla play con il triangolo prendo le rocce Comunque quanto ho visto, sì con il triangolo si può prendere tutto Tranne le rocce giganti e la legna La legna e le rocce giganti così Oh Dio sembra che sto facendo così Oggi Vieni da Pasquala Anche questa sarà una serie in film Tero Tero vieni da Pasquala Oh ma l'hai visto The Long Gamer che non si può fa Ciao Solo se la domestichi Non ti ricordi Ah sì ma io qua ci muoio Perché mi sto addormentando? Che belle ascelle No ma qua ci muoio Perché? Ok ragazzi siamo a livello 2 Quindi cibo, mi potenzio, fuoco da campo E borraccia No accetta che serviva Ciò accetta, lancia Ah ma quindi si è già di livello 3 Quindi si è già di livello 3 Sì E perché hai detto che arrivi di livello 2? Ehm Mi faccio l'ascia e la torcia Uè cidu 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 Gli sa peccarmi Ce l'ho contro il Dodo Perché sono creature deboli Che non possono fare un cazzo Se mi sto che viene Mi viene pure addosso Adesso ho capito perché Ci sono istinti per questo i Dodo Perché vengono addosso alle persone Che mi stanno cercando di uccidere E la quanto che ho visto da te l'ongue Non si può pure camare Allora Sì anche io ho visto Con la fionda qualunque Con la mazza qualunque E con il fiondo Vado Ma qua c'è già un fuoco da campo Che va tutto bene Ma me lo volevi dire Ma forse la carne nel Dodo Metti la carne 18? Ok Aspetta la metà 18 e 9 Quindi 9 e 9 Aiutami però pure tu Addio C'ha mille di vite Ma vaffa culo Eccolo Portiamo comunque la terra Il mio corpo La portiamo comunque Sì perché ho ritrovato tutto Sì però ora non li picchiare E' visto l'episodio dove Hai visto che in tutto Ark Che non gamer Non ha mai tramato un nome Salito Il canto c'è Paolo mi svegliamo Nonno Paolo Livello 4 E' salito di livello Ora non mi sape carne Per favore Dai Perché mi sape tutta la carne Dammena un po' Dammena un po' Sono zero Non è vero Dai Ma come fisicamente posso? Fermo 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 Ragazzi Fate una foto Sembra che c'è la coda Che ti esce dalla schiena Ok ragazzi Eccoci Siamo arrivati Guardate che bel posto C'è un deal Io mi sono fatto già il No no il deal attacca Eh ma Eh Eh ma il deal attacca Beh Guarda siamo Che amma Siamo in un'interessima No perché di sicuro Ci staranno io Quindi è meglio farsi una casa Più presto Di paia Sì Vabbè Basta Basta che ci protegga Ragazzi comunque abbiamo deciso Di andare a vivere giù Perché comunque ci manca un casino d'acqua Quindi Direttamente No andiamo giù No ecco Perché di sicuro ci moriamo Perché senza acqua Ok Ragazzi comunque consigliateci per favore Cosa fare e cosa migliorare Per fare i video Emma fai due fondamenti a terra Che fanno più ridere Perché a me mi sembra che non vi fanno ridere questi video Eh ma metti due fondamenti qua Ah raga poi quando saremo più esperti Vi No vi fare Facciamo un due No un due Un quattro per quattro Ecco una Ecco Ok finito Nooo Che è successo? Ho fatto tre porti invece che tre muri Perché io non ce li avevo E mi sono sbagliato Eh ma io ti mangio Beh bella così la casa Ma dai Benissimo Grazie a tutti Grazie a tutti Io ti ho tagliato la legna come un matto Ragazzi eccoci abbiamo finito Abbiamo Ho finito la casa Ah Eh ma io ho sbloccato il pestello e l'immortaggio Però sai di poco Cosa è per il narcotico Il narcotico Per narcotizzare Per No il Il materiale che serve Ah La carne cruda mi pare Carne Forse carne marcia Perché è verde Perché è verde Perché è verde Eh ma si sbagliato Eh e penso alle narco bacche Perché quelle fanno a tormentare Quindi Ragazzi comunque Con la nostra Con la fine della nostra casa E con lui Baggato Con un piede Con un piede e mezza gamba Dentro la cassa Noi concludiamo quel video Quindi un saluto da Pasquale Mamica Sei Saranno passati due anni Mamica Ciao Ma come Rifallo Perché? Rifallo è rapidissimo No no Non picchiare Rifare solamente così Ah no ma Ma io picchio il pavimento pure Sto rompendo il pavimento Guarda No Comunque ragazzi Vi saluto E al prossimo video Di Ark Cioè domani Non ve lo perdete Bella